professoressa Angela Merkel aus Fiedersen vai sbrigate scusa ma mi ho spread ancora troppo largo professor giurato ah carissima ci vediamo per fuoco professor Mattarella venga non faccia il timido ma io sembro timido ma in realtà Renzi ciao 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 ci vediamo dopo professor Bergoglio buonasera un appetito professor Cocciante professor Cocciante non c'è sta ma come sto qua ammazza quanti ce ne sono ancora e voi laggiù siete presenti presenti signora Bidella e se anche tu vuoi essere presente ti aspettiamo dall'8 al 12 aprile al teatro Tirso de Molina a Roma con il mio nuovo spettacolo torno a scuola un anno dopo è vero venite vi prego il nostro è un appello a Roma a Roma a Roma a Roma a Roma a Roma Stop, 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 lie